Il luogo qui non è tutto per i giovani che lasciano il terreno come Agnabella perché a loco, lenti, non stanno facendo niente. Sindichi su tutta la stessa maniera. Questo parco qua non bastano i cinghiali. Cornacchie, gazza l'altra, gazza gli andai stanno rovinando l'ecologia e si stanno distruggendo. Ho avuto qui 80 anni perché sono stato fisso in delle macchie, montagne, caccia, funghi, notte e giorno. Questi uccelletti piccoli stanno sparando e sono tutti quelli che saccheggiano. Questo soprannumero è una bestia. Ora la comunità montana ha messo la tasta per i funghi. Giusto. Ma quanta fungheria stanno andando a parlare perché i cinghiali non stanno fermi. Pagano la testa la gente per i funghi sì o no. L'ecologia non esiste più. Stai sparando giorno per giorno. E qui sono morti perfino la gente in mezzo alla strada. Io quello che voglio io. Non voglio niente contributi, non voglio niente. Quello che voglio direttamente è già stare libero. Perché questi danni qui, che vengono qui per mettere 70 euro, non c'è nessuno di manovrata e ne ha pagato per il culo completamente. In queste condizioni noi che costruivamo qui teniamo un sangue in da luce. Non si ne potrebbero più. Pagliassero una via perché questo qua si rischia con la gioventù nuova che avviene una guerra civile. Sicuro che arrivano una guerra civile. Perché tra tassi, tra tutto cosa, non si capisce niente di più. Loro dormono. Per l'amore di Dio, il parco deve rumanire. Perché se non rumanire il parco è il suo guai. Perché domani uno che vuole mettere un'attività al giorno, che sta calato, c'è il rompo del parco, è una grande cosa. Deve rumanire il parco, non si tocca. Però a dare l'incontro a questi guai. E ci sta dentro la Germania, ha già cattato 6-7 ettari di terreno qua. Ci ha già fatto delle bonifiche, senza una lira nessuno. Ora stanno qua e stanno ammazzati qua. Io arrivo la mattina e stavo come una bella qua. Arrivo per rilassare, per questo guai. Vengo qua e mi arrabbiamo. Aggiude a prendere le nuci stamattina, tutte le taccariate di ricendali. Ma ti capite cosa succede qua? Che tutti i giorni. Cristo non è che si formava eboli. Si formava il patano. E non ha giudato niente di più. Pugliate l'iniziativa e venite. Che volete fare? Io già tengo 50 anni da portare un'arma. Non posso prendere le scoperte più. Perché si spavano le cornette e vanno in galera. Si spavano il geniale e vanno in galera. Portare un'arma abusiva. Ma voi, addostate il cavacapone. Creassero i posti di lavoro. Delle strutture. Allo stesso tempo, se si facessero degli agriturismi. Guardate, vi sono in una palla tutti i giorni. La dieta petiterranea siamo al centro. E non c'è nessuno a pettolo a casa. Si, c'è qualcosa di pizza, c'è qualcosa di ristorante. Guarda che c'è i palati. Ma hai capito? Allora si deve creare qua che abbiamo tutto. Degli agriturismi fatti come si deve. Degli agriturismi fatti come fanno da parte che sono sordi. Il meglio viene olio. E' in una zona ruciliente. Quando si faccia finita. E' sapere che c'è da fare. I giovani non darono tutti i colpi. Venite che c'è la zampa vostra che non vengono. Ma dove presentate questa politica? Questa politica fasola. E' una politica fasola senza nessun risultato di avvenire. Ma doiamo.